Ciao a tutti ragazzi sono Sergio Aden e bentornati sul mio canale Danimarca-Francia domani ore 17, 16 le italiane, stadio Luznichi di Mosca si affrontavano ragazzi Danimarca e Francia il sondaggio l'ha vinto la Francia in maniera piuttosto schiacciante come potete vedere in sovraimpressione quindi utilizziamo la squadra di Griezmann e compagni non dovrebbe essere una partita complicatissima però ragazzi come ogni partita come ogni giorno ragazzi il pronostico arriva per voi adesso stavo per dimenticarmelo con me ormai ho sistematicamente faccio in il video del mondiale le nostre quote le nostre quote per chi volesse scommettere questa partita ragazzi scaricate l'app tutto il calcio ti faccio sempre pubblicità occulta allora se trovassi la partita eccola qua Danimarca-Francia si dice l'italiana la quota più alta ce la mette 5,50 unibet più alta per la vittoria della rimarca l'x più alto, icchise come dice la manalfaina è a 360 bet click e a 1,88 la vittoria della Francia più alta di sempre bet click ragazzi scaricate l'applicazione guardate qui vedete tutti i risultati in tempo reale con notifiche di tutti i campionati praticamente del mondo allora andiamo a farci la formazione la Francia ha dopo gradato l'attacco ha poi gradato il centro campo mettiamo Ioris in porta insostituibile Hernandeson Mendy main leader in City lo conosco un po' di più Mendy mi chiamo in D mettiamo coscire lì perché un TT è da un gradato terzo destro terzino destro ragazzi non può mancare Sidi B centro campo Matuidi forza la Juventus ragazzi lo conoscete soprattutto se siete italiani seguite bene il calcio italiano Matuidi ragazzi centro campionista di Juventus Kanté ha poi gradato a 90 90 come Lewandowski Pogba e purtroppo Zuzio e Kondopià trovano posto forse in panchina Mbappé con Martial insomma è un bel è una bella grana anzi proprio un Mbappé con Paille però mi fido di Mbappé ragazzi davanti Grisman insostituibile e destra mi fido di Dembele mi fido di Dembele e semmai Toven ragazzi che abbiamo già avuto modo di conoscerlo nel pronostico della finale di Europa League cercate di dividere ragazzi cioè lo trovate tranquillamente anche nella playlist pronostici partite di cui anche questo video fa parte vediamo chi portarci in panchina perché vabbè Toverne sicuramente togli il suo molto da un guardato lo lasciamo fuori e poi Rami ce lo portiamo diciamo non c'è nessun altro che mi che attira la mia attenzione si Paille portiamo Paille al posto di di mandandata tanto il portere di riserva ragazzi se non ti porti il portere di riserva è un glici di FIFA il portere non verrà mai spulso questa è una novità che direi la rivarca Francia Luzi Niki Stadium ragazzi stadio piuttosto vecchio del 1956 80.000 posti ragazzi come il San Siro ed è lo stesso stadio ragazzi di Portogallo Marocco e lo stesso stadio della prima parita del mondiale ovvero Russia Arabia Salida e vi da il benvenuto per questa entusiasmante sfida internazionale preparatevi a viverla con noi con me ovviamente e con Stefano Nava benvenuti anche da fatte mie una partita con i fiocchi oggi è tutto pronto per questa andiamoci sempre ragazzi come tutte le partite d'inizio sempre prendono il pallone la panoramica ormai ragazzi appuntamento fisso del video ecco i vichinghi danesi più seguito al mondo dopo le olimpiadi capace di appassionare di vari sistoli Jorgensen ragazzi c'è da fare molta attenzione a Jorgensen ragazzi l'anno scorso quando giocavo a FIFA Mobile l'ho presi Jorgensen l'ho presi di su micchia 90 no l'ho messo in squadra non faceva a gonna anche con le mani poi ho smesso di giocare a FIFA Mobile gioco a OSM se volete ragazzi vi faccio un video sulla mia scuola di OSM non ci gioca da tanto tempo quindi non troverete lo squadrone però ragazzi se volete il video ve lo posso tranquillamente fare sarebbe un piacere tutti andate a male ragazzi tutti più neri che bianchi nella Francia meglio perché neri corrono che abbiamo più potenza sulle fasce si di pe va pe Dembele che le marche a panchina riesco a riconoscere Ugo Ioris visto si vive il 6 mi sembra Bobba 11 Mbappé però vabbè no non credo 11 Mbappé vabbè vediamo loro Schmeichel Kasper Schmeichel figlio di Peter Dasgar Kjær Kristensen Stiger Larsen dell'Udinese Sean Eriksen Belani e il 3 d'attacco Paulsen Jorgensen esisto hanno un giocatore di colore quello siamo i nostri ma li sapete già Bioris Sidibe Varane Koscieni Mendy Matthew Deleuventus Cartè Bobba ex Juventus Dembele Griezmann e Kylian Mbappé possiamo cominciare ragazzi da Nimark a Francia Bobba dentro Griezmann Griezmann 7 minuti quasi 1 a 0 per la Francia ha detto ma metto il tiro a giro no magari e ha funzionato ragazzi sotto le gambe di Karl Schmeichel Kasper Schmeichel cominciamolo bene già vogliono che sostituisca vabbè ragazzi 1 a 0 Griezmann la mette al settimo minuto a 6.40 e si va in vantaggio non dovrebbe essere come ho già detto una partita difficilissima però mai dire mai Elze pose dentro bravo Hugo Lloris Sisto Jorgensen Sean Jorgensen Sean Jorgensen con la falla verso Sisto sinistro bravo 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 Jorix sei già roto Griezmann sei già roto Griezmann no non lo sostituisco più non lo sostituisco Ericsson al cross dovrebbe esserci angolo no non mi fido di giro non mi fido di giro al cross ottimo non è finita Sean 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 Sisto Sisto il cross bravo un gol lo Kanté non è finita ancora ancora Kanté Mendy bravo bravo Sbaglia il mio Jorgensen Jorgensen Jorix ancora siamo un po' nel pallone bravo tutto l'ho sbagliato attenzione al cross dentro ragazzi siamo proprio nel pallone totale 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 siamo in maniera della della Danimarca ragazzi non puoi far passare questo passaggio qui Jorgensen dentro Joris sta parlando di tutto per ora attenzione destro angolo ragazzi non ha fatto un tiro in porta e basta tutto il resto lo sta facendo la Danimarca mappellaccio Dembele ancora all'estero del Barcellona va dentro Matuidi burato allora Griezmann per Pogba dentro rimolchio Griezmann traversa a porta non dico vuota ma quasi portiere battuto Donanbappé dentro per Pogba Pogba Matuidi Dembele Dembele giustizia 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 43 al minuto 2-0 giustizia alla fine hanno tirato 20 minuti anche di più una traversa alla fine più vicissima di noi da due passi Dembele segna l'esterno del Barcellona ex Borussia Dortmund ed è 2-0 vada dentro Eriksen bravo a chiudere Jürgen se non si viene in mente vada dentro per Eriksen dopo lungo assisto bravo Joris Mendy Paglietto Pregis Manuel io ho visto un fallino però ragazzi non importa non importa importa che siamo 2-0 alla fine primo tempo e vabbè tiri 7-4 per loro porta 4-2 per noi quindi diciamo la precisione in porta è di granunga nostra vabbè ragazzi andiamo via a questo secondo tempo punizione va Eriksen dritto tra le braccia di Joris un bel e lunga per Griezmann ha tenuto da Chiara sorpassa l'ex romanista allora Griezmann con una gamba sola Griezmann dentro Schmeichel troppo bassa troppo debole troppo corta questa palla rubata la cantè il destro troppo debole John Michael Kasper Schmeichel palla le sue braccia palla verso destra per Poulsen bravo a chiudere di testa quindi facciamo un cambio e facciamo entrare Lemar per Mbappé che è molto buio questa partita e metto anche Fekir per Mbappé non mi è piaciuto Mbappé ragazzi proprio per nulla quindi lo vado a sostituire va Ericsson dalla banderina la palla dentro uh l'ho vista quasi in porta sopra sempre Jorgenzen Pogba 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 calcio Schmeichel calcio d'angolo calcio d'angolo va Dembélé troppo lunga Dembélé 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 lunga il trante è vero di Griezmann ma c'era fuori gioco facciamo entrare adesso Hernandez per Mendy si 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 attenzione al fallo Ericsson L'esterno del Tottenham Dembélé Dembélé fa fuori tutti Contro le lager Dembélé la girata Vita il cross La mette dentro dove c'è Pogba E smanacca via Kasper Schmeichel Calcio d'angolo Se non rimasta ancora il calcio vecchio ragazzi La palla dentro C'è Pogba Partita ottima alla fine per i portieri Polsen Attenzione passa sotto Perché ti tacco Perché ti tacco Ci saranno da recuperare 3 minuti Come mostra la lavagna del quarto uomo Chi è Ma se ne sale la Danimarca Griezmann Ripartono in capo aperto Griezmann lancia lungo Lemar Quintenale Lemar 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 Palo E gol E gol di Lemar Al 95esimo Al 95esimo Lemar Chiude conti Praticamente già chiuso ormai Gol Molto bello Molto bello Molto bello Questo Rimarrà sul canale ragazzi Già dalla palla che gli è arrivata Palo Palo Dentro Scusate ovviamente un peccato non fosse entrata Eh ragazzi Veramente L'avevo letto Non volevo farla come altre volte ragazzi Partita Più facile Rispetto ad altre Lemar Dembele e Griezmann Anzi Griezmann Dembele e Lemar Ed ecco qui ragazzi Con Griezmann rotto La partita finisce qui 3 a 0 Game set match Dani Malca ragazzi Che c'è sconfitta Potrebbe essere risultato Plausibilissimo Però ragazzi Si sa che i mondiali Vi servono sorpresi Appunto ragazzi La Francia Ha vinto proprio di misura Con Con l'Australia Con autogol Un rigore Un rigore per l'Australia Per anche Germania Messico Islanda Argentina Ragazzi Partite Quando sei il mondiale Ragazzi La legge del più forte Dige Forse in fondo Ragazzi Tiri 10 pari Importa 7 a 3 per noi Cosa sopala loro 17 contrasti loro E 6 noi Io vi ringrazio ragazzi Ci vediamo domani Che torna Il Brasile Con la Serbia Anzi Serbia e Brasile Partite che abbiamo Squadre Che abbiamo già visto Lasciate like Iscrivetevi come al solito Non fate furbetti E noi ci vediamo Alla prossima Ragazzi Grazie Grazie a tutti Ciao 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 a tutti